La ricerca è stata vana, nessun errore di stampa. Davanti al 9 non c'era scritto 1 e tantomeno 2. I miliardi destinati al comparto Sanità e Salute nella prima stesura del recovery plan per ora sono soltanto 9. C'è chi non crede ai propri occhi e si stupisce, forse si indigna, quando qualcuno nel governo mette una toppa peggiore del buco. Sì, 9 miliardi non sono molti, davvero, ma con una limatina qua e là, in altri capitoli, qualche milioncino esce fuori. Eppure siamo ancora in piena emergenza, Covid e alcuni virologi non escludono una terza ondata della pandemia che metterebbe definitivamente al tappeto le ormai esauste strutture sanitarie. Per arrivare ai 25 miliardi richiesti dal Ministro della Salute e Speranza come linea del Piave, la strada è lunga e tortuosa. Basti pensare ai costi del piano di vaccinazione che prevede anche 16 mila assunzioni di medici e infermieri e resta ben poco per ristrutturare ospedali fatiscenti e ricostituire la sanità territoriale con nuovi presidi. Volutamente sorvoliamo sui 37 miliardi del MES per essere una volta tanto fuori dal coro. Pensavamo, leggendo il testo del Recovery Plan, in un errore di battitura del povero funzionario sotto stress quando ci siamo imbattuti nei soli 3 miliardi destinati al turismo. Secondo i calcoli il settore avrebbe perso solo un quinto del suo fatturato. In effetti un errore c'è. Se solo il comparto alberghiero ha una voragine di 12 miliardi, la perdita è di 4 quinti, ma questo si potrà correggere facilmente. Quando parliamo del turismo italiano ci riempiamo la bocca dicendo che il nostro petrolio, la nostra incomparabile grande bellezza, per non magnificare poi le doti di accoglienza, il clima paradisiaco, il cibo degno degli dèi, bla bla bla. Sanità e turismo sono con il cappello in mano, o se preferite con le toppe al fondoschiena. E non serve la polemica politica né le accuse di incompetenza. Bisogna rifare i conti e cambiare le cifre. In ogni caso il cenone di Natale si può fare anche con i fichi secchi. Basta avere sullo sfondo il golfo di Sorrento e la splendida voce di Enrico Caruso.